Bene, allora, Salvatore in Mazzara del Vallo, io ti ascolto senza problema, no? Venti, di te, allora devi 5, più di questo che ti vuole dalla vita. Ok, va bene, Luca, io ti ripasso il microfono, spero che hai potuto ascoltare tutti i corrispondenti, l'amico Salvatore in Torre del Greco, ha annunciato il cuore reticcio, l'amico Marino in Benavento e l'amico Salvatore in Mazzara. E a te di nuovo Luca, Italia 05, Kilometro Mischi, France, Barato 8, prego. Ma troppo, director. Allora, Luca, salvo inizio, mi sembrano tutto il nuovo flungho qui, queste varie tante luci, ma il tuo Mischi, Francia, Barato 8, fu un po', buon, che l'amico Salvatore, il mio figlio è certo, c'era il fiore vede, no? Ragazzi, cos'è? No, 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 no. Mi sono ritirato, mi sono rimanato a Genova in Mazzara, Grazie a tutti. Grazie a tutti.